L'amministratore nomina i proprietari del dispositivo. Seleziona il dispositivo e selezione invita. Seleziona importa dalla rubrica o crea un nuovo utente. Seleziona invita proprietario, in questo caso la chiave digitale proprietario ha una durata di 10 anni. Seleziona il metodo dell'invito con sms, whatsapp, email e la lingua dell'invito e premi su invita. Chi riceve l'invito si troverà due link nel messaggio, il primo per scaricare l'app e il secondo per attivare la sua chiave. Il proprietario che accetta l'invito potrà gestire la porta premendo il pulsante sclac. Vediamo adesso come invitare un ospite. L'amministratore o il proprietario possono nominare i propri ospiti, premi il pulsante invita. Seleziona importa dalla rubrica o crea un utente. A questo punto si seleziona invita ospite e si apre la scheda per impostare le abilitazioni che l'ospite avrà. La chiave ospite ha il log eventi. Questo permette al proprietario amministratore di ricevere una notifica quando l'ospite accede alla struttura. Seleziona il metodo di invio dell'invito con sms, whatsapp, email e la lingua e premi su invita. Chi riceve l'invito si troverà due link nel messaggio, il primo per scaricare l'app e il secondo per attivare la sua chiave.